Giustamente parliamo della nascita di James Dean, perché si può dire davvero che si è morto James Dean? Direi proprio di no, nel senso che resta, resta immortale, resta sulle magliette, resta in tante icone che girano, perché lui era esattamente un'icona, rappresentava la gioventù ribelle, rappresentava fin dai primi film, ne ha girati tre, ma è come se ne avesse girati cento, resta dentro Hollywood, resta il mito, resta fra l'altro il personaggio controverso, molto silenzioso, bello e dannato, un po' piccolo, perché in realtà adesso ce lo ricordiamo anche come un gigante per citare uno dei suoi film famosi, anche se gioventù bruciata indubbiamente è il più grande dei suoi film, va ricordato che però ha esordito giovanissimo con la Valle dell'Eden, studiava molto, ammirava tanto Marlon Brando, Marlon Brando che come tutti gli altri attori lo detestava più o meno cordialmente, lui però era riuscito a diventare il giovane ribelle americano, quello che c'era nei libri di Seilinger, quello che c'era in molta immaginazione di quegli Stati Uniti, per cui siamo all'inizio degli anni 50 e lui entra prepotentemente negli schermi prima ovviamente del cinema e poi della tv, è davvero un divo immortale, lo ricordiamo sempre in jeans, sempre col suo giubbotto di pelle, esalta anche il mito della velocità, il mito della velocità che lo porterà a morire su una strada americana con la sua Porsche, ma anche quella morte diventa in un certo senso un frammento di questo mito del giovane ribelle che sapeva opporsi ai genitori, sapeva opporsi a una certa idea di America e sapeva soprattutto restare nell'immaginario collettivo non solo dell'America ma del mondo. Quando la poesia... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!